Ben tornati amici balconiani siamo qui sulla terrazza del municipio 1 di Milano oggi c'è una bellissima giornata, guardate che sole che c'è, guardate la madonnina che splende la stai facendo vedere? ma soprattutto splende perché ci sono con noi i Malkovich che ci presenteranno una canzone dal titolo? dal titolo Gnavi Take it away non vivo solo per stare bene, galleggiare, cerco una fiesta in strada e non c'è sono cose microscopiche e non è detto che mi appartengano due cose che in testa ritornano, danzano le cose che in testa ritornano, mi straziano con quel coltello cosa fai? non rido solo per distrarmi da te non so nemmeno cosa fai ma tu continua a colpirmi continua a colpirmi che ancora ti aspetto in ogni tuo più disgraziato scempio e non è detto che quello che cerco è quello di cui davvero ho bisogno e non è detto che quello che cerco è quello di cui davvero ho bisogno non è detto che quello che ottengo è quello di cui davvero ho bisogno Malkovic Malkovic senza l'H, giusto? senza l'H come mai senza l'H? perché siamo un gruppo alternativo ah ho capito, altrimenti si confondeva con il film esatto ok allora Malkovic, cosa state combinando? raccontate un po' ai nostri amici balconiani che sono un po' ignoranti allora abbiamo appena pubblicato il nostro senza offese ignoranti che ignorano che ignorano il fatto che noi abbiamo appena pubblicato il nostro secondo EP che si chiama Buena Sosta quindi un titolo un po' spagnoleggiante ah ok e niente il nostro secondo EP adesso abbiamo fatto qualche data bella in questi mesi ci fermeremo adesso perché quest'estate invece di fare un tour come tutte le band fanno di solito registreremo il disco ok quindi sarete al lavoro nonostante il caldo, aria condizionata a palla esatto ma è a provaglio di Zeo quindi sul lago di Zeo ah bello dove ci saranno alcuni festival anche quest'estate dove noi di Balconi TV parteciperemo fico allora ci vediamo là certo assolutamente cioè tra una ripresa e l'altra di Balconi TV a questi festival voi verrete assolutamente verrete a trovarci perfetto allora del vostro progetto si può trovare qualcosa online? tutto tutto video fatti da Fabio che è anche un videomaker ah pensate facciamo tutto in casa e Spotify Youtube fantastico allora digitate Malkovich senza l'H su Youtube e altri insomma altri network altri social e andatevi a spulciare il repertorio di questo progetto noi vi ringraziamo per essere stati qua ci vediamo alla prossima ciao dal terrazzo del municipio 1 Milano ciao 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 Grazie a tutti.